Una targa in segno di riconoscimento per un gesto eroico. È stata consegnata a Firenze da responsabili enti locali della Will FPL, Flavio Gambini, all'assistente capo della Polizia Municipale Cittadina, Andrea Rossellini, che il 7 marzo scorso si gettò in arno per salvare una ragazza in balia della corrente. Un gesto coraggioso e ponderato, ma soprattutto necessario per scongiurare un tremendo epilogo. Diciamo che non è stato proprio istintivo gettarsi subito, ho valutato un attimo la situazione, mi sono reso conto che non c'era altro da fare, perché la pescaia era molto vicina, la corrente era abbastanza, la ragazza nel giro di qualche minuto avrebbe raggiunto la pescaia e lì probabilmente travolta dalle acque. Alla domanda se sarebbe disposto a ripetere l'eroico gesto, il vigile non ha esitato a rispondere. Ma senz'altro, sicuramente, sono convinto che lo farebbero anche in tanti altri questo gesto. La giovane si trova ancora ricoverata in ospedale e la gente che l'ha salvata aspetta solo che si rimetta in forze per poter andare a farle visita.